In Abruzzo dall'inizio dell'emergenza sono stati registrati 3.321 casi positivi al Covid-19. Rispetto a ieri si registra un aumento di tre nuovi casi. 26 pazienti, invariato rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, zero, invariato rispetto a ieri, in terapia intensiva, mentre gli altri 122, più uno rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 464 pazienti deceduti, invariato rispetto a ieri, 2.709 dimessi guariti, più due rispetto a ieri, di cui 12 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici e 2.697 che hanno risolto i sintomi dell'infezione sono risultati negativi in due test consecutivi. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 148 con un aumento di una unità rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 113.388 test. Del totale dei casi positivi 238 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, più uno rispetto a ieri, 827 in provincia di Chieti, 1.595 in provincia di Pescara, più due rispetto a ieri, 632 in provincia di Teramo, 26 fuori regione, mentre per tre casi non è indicata la provenienza.